Sarebbero state utilizzate tre armi e sparati una ventina di colpi di arma da fuoco nell'agguato compiuto per uccidere ieri Antonio Petrella, 54 anni, con precedenti penali, e Antonio Ferrelli, 40 anni, pregiudicato di spicco di Apricena. Zio e nipote, volti già noti alle forze dell'ordine per vicende legate al traffico di droga, sono stati uccisi dopo un inseguimento mentre erano a bordo di una Fiat Doblò sulla strada provinciale per San Nazario, alla periferia del comune Foggiano. Secondo quanto accertato dai carabinieri del comando provinciale di Foggia, il comando avrebbe utilizzato un fucile calibro 12 caricato a pallettoni, una pistola e kalashnikov. Tre, forse quattro persone a bordo di un'autovettura che ha affiancato il Doblò, cominciando a sparare una raffica di colpi, farendo prima il conducente del furgone che ha sbandato, andando ad impattare contro un palo della segnaletica stradale. I killer sono poi scesi dall'auto e hanno continuato a sparare fino ad uccidere definitivamente due uomini. I corpi di zio e nipote sono stati trovati vicini. I militari hanno lavorato tutta la notte per effettuare perquisizioni e ascoltare persone che conoscevano i due uomini uccisi. Sono state acquisite le immagini delle telecamere presenti in zona e sono stati eseguiti due stub. I militari hanno lavorato tutta la notte perquisizioni e ascoltare persone che conoscevano i due uomini delle telecamere presenti in zona e 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 in zona,